Situazione problematica per numerosi agricoltori del Vastese che stamane si sono riuniti davanti alla sede del Consorzio di Bonifica Sud per protestare contro l'aumento del 57% del canone consortile 2016. Sappiamo che più volte la Regione si è trovata di fronte ad una situazione difficile da gestire, ma voi avete sottolineato che non si può partire da soli per trovare le risorse necessarie. Sì, proprio così. Noi assolutamente non condividiamo questo modo di approntare il problema. Il piano di rilancio del Consorzio ci interessa anche a noi. Ricordiamo che il Consorzio eroga acqua anche al Consorzio industriale qui vicino, quindi del Vastese San Salvo. E la stessa cosa fa anche nel Sangro. Quindi è un qualcosa a cui noi teniamo. Però non si può scaricare tutto quello che è la situazione negativa creata in questi ultimi anni sul mondo agricolo. Cioè non possiamo essere noi a pagare tutte quelle che sono state le scelte irresponsabili degli ultimi anni di gestione di questo Consorzio. Quanto è problematica quindi la situazione? Ma la situazione è gravissima ed è anche stupefacente da un altro lato perché come si fa a gestire una ricchezza tanto importante per l'Abruzzo come l'acqua e accumulare 20-30 milioni di deficit e neanche loro ci riescono a dire ancora quando è effettivamente il deficit, il debito di questo ente. Ed è talmente grave la situazione che rischia veramente di ricadere sui coltivatori. Qui già hanno fatto un aumento, già insopportabile. Se bisogna ripienare quel deficit, quanti costi si trovano a sopportare i coltivatori? Quindi da un lato bisogna tagliare col passato, questo è un debito che non possono pagare i coltivatori. Dall'altro bisogna rimettere in piedi lente perché l'acqua è talmente importante per i coltivatori della zona che non ne possono fare a meno.